Preside, tutto pronto per il nuovo anno scolastico? Sì, siamo pronti, siamo felici di ripartire, siamo felici di predisporre tutto per dare la migliore delle accoglienze ai nostri studenti, dalle prime alle quinte classi. Per le prime abbiamo predisposto un piano di accoglienza come nella tradizione del Pitagoram, è un'accoglienza che effettivamente riferiamo a tutti i nostri carissimi studenti. Abbiamo il desiderio di rivederli, abbiamo il desiderio di ripartire con energia ed entusiasmo, quello che ci ha sempre caratterizzato e che ci caratterizza in maniera costante. Piaciuto il numero delle iscrizioni all'Iceo Classico? Il numero delle iscrizioni sostanzialmente possiamo dire che si è mantenuto costante, questo ci rincuora e soprattutto ci spinge a lavorare nella direzione che ormai abbiamo intrapreso. Un lavoro che tiene conto della specificità dello studente, che vuole muoversi garantendo la cura ad ogni singolo studente, tenendo conto di quello che è realmente. Quindi la scuola della cura, la scuola della personalizzazione, la scuola dell'innovazione, la scuola della qualità. Ci sono delle novità? Ci saranno delle novità nel senso che cercheremo di dare seguito a quelle che sono le indicazioni legate alla realizzazione dei progetti PNRR, quindi questa integrazione tra il curriculare e l'innovazione. Quindi sfrutteremo appieno le risorse laboratoriali. Abbiamo realizzato dei laboratori con risorse che ci sono state assegnate nel tempo. Quest'anno si tratterà di andare a regime e di sfruttarli appieno per un coinvolgimento reale degli studenti. Anche il corso di biomedico rimarrà? Sì, il corso di biomedico rimane e proprio pensando all'indirizzo scientifico abbiamo fatto degli acquisti mirati. Siamo soddisfatti, tra l'altro anticipiamo, perché diversi dei nostri studenti dell'indirizzo biomedico sono riusciti a superare i test di emissione a medicina senza il ricorso ai privati, quindi a quelle scuole private che sostengono normalmente gli studenti per poi approcciare positivamente questi test. nostro è l'orgoglio di averli accompagnati senza altre risorse se non quelle che la scuola ha messo loro a disposizione. Buon lavoro. Grazie, grazie per l'attenzione.